Musica Mi ha espirato un'emozione molto bella. A me quel disegno rappresenta una squadra dei disabili, perché adesso il 6 di gennaio lo mettono in estazione dell'8, della lottria d'Italia. Boris quando vuole esprimere le emozioni è sempre sincero, quindi è stato il suo modo per comunitare la gioia di giocare insieme a noi tutti quanti nella squadra. Tre anni insieme nella sesta squadra, era con noi, ADS con noi. Molto simpatico questo Roberto. Che io possa vincere, ma se non uscissi che io possa diventare con tutte le mie forze. Due, tre, no! 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 Grazie a tutti.